Perfetto, allora questa settimana il tema era stato essenzialmente l'introduzione dei database e quindi abbiamo visto sia le cose di base su come si accede a una tabella facendo delle query, facendo delle interrogazioni principalmente con select e poi abbiamo cominciato a vedere come strutturare queste cose, come inserirle all'interno dei nostri tipi di programmi. La settimana prossima andiamo avanti, quindi i video che pubblicheremo nella fine settimana per quella prossima, andremo chiaramente avanti su quell'argomento, quindi avete visto che c'è l'esercizio che è rimasto ancora a metà sull'introduzione del database, aggiungeremo poi anche la parte su alcune indicazioni più di dettaglio su come creare le classi, i cosiddetti DTO, gli oggetti che trasportano dati. Nel caso in cui abbiamo dei database un pochino più complessi con più tabelle. Ok, allora, veniamo subito direttamente alle vostre richieste, alle vostre domande. Vedo già che Enrico ci chiede L'utilizzo della combo box in questa esercitazione si affermando sull'esigenza di dover creare un metodo in controller per popolare il box e l'utilizzo di una mappa per collegare i nomi ai codici dei corsi. Sono d'accordo solo a metà con la domanda, nel senso che in questa esercitazione stiamo parlando del laboratorio 4, quindi quello che dovrete fare domani. Fatemi pescare, condividiamo lo schermo così sappiamo di cosa stiamo parlando. E andiamo su Kitab Devo andare a ripescare ovviamente la chat che ho perso. Partecipanti di qua E la chat di qua Ok, allora TDP 2020 L'apporto di 4 In questo caso noi avevamo una tendina Come questa Che deve essere in qualche modo popolata, deve essere in qualche modo riempita con dei dati Questi dati provengono ovviamente dal database Due cose Importanti Proviamo a scrivere qua uno schema Di quelli che sono gli aspetti più importanti Che quando abbiamo una combo box Combo box È un oggetto parametrico Ok? Ha un parametro generico Per cui in questo caso Allora il suggerimento sempre forte è di non usare mai delle stringhe Questo sarebbe il modo più semplice È una combo box Le cui voci Contengono tante stringhe Quindi il nome del corso 1 Il nome del corso 2 Il nome del corso 3 Eccetera eccetera Io vi sconsiglio Da non usare mai A meno che l'unica informazione che noi abbiamo Essenzialmente sul contenuto di quella combo Sia Un nome Sia una stringa In questo caso Noi abbiamo dei corsi Noi abbiamo già da qualche parte Nel nostro Nel nostro progetto Una classe che si chiama corso E E quindi Avremo da qualche parte Una lista di corso Che sarà Non so come la chiameremo Da qualche parte Tutti i corsi No? O elenco corsi Chiamatelo come volete Da qualche parte Ce l'ho già Nel model Per forza La prima cosa che devo fare Il programma quando parte Deve creare un elenco corsi Quindi a questo punto Conviene molto di più Che la combo box Contenga degli oggetti Corso Propriamente detti Quando voi Create una combo box Con un sim builder Lei vi mette semplicemente così Quando vi crea il controller Dice Perché qui c'è un parametro Però specificarlo tu Noi Specifichiamo un oggetto Allora In questo oggetto A questo punto Gli oggetti Che metteremo Dentro la combo box Sono gli stessi oggetti Che sono Nel elenco dei corsi Del modello Sono esattamente Gli stessi Dopodiché La La combo box La tendina Mostrerà Il contenuto Del corso Punto toString Quindi Quando definisco Il metodo toString Mi fa vedere Nella combo box Nella tendina Quando si apre Esattamente L'output Del metodo toString E quindi Personalizzandomi Il toString Posso decidere Che cosa mostrare Qua dentro Dopodiché Però quando vado A prendere Il valore Adesso Entriamo nel dettaglio Sui metodi Quando vado a prendere Il valore Che attualmente Ho selezionato Invece Mi restituisci Già un oggetto E questo oggetto Ha tutti i campi Che mi servono Per cui Non ho più Bisogno Di collegare I nomi I codici Del corso Solamente Per questo Scopo specifico Perché io Ho già un oggetto Che ha dentro Il nome Il codice Eccetera Ma è esattamente Lo stesso oggetto Non è un altro Uguale È lo stesso oggetto Che c'è in questo Elenco dei corsi Quindi Di nuovo Ancora una volta La strategia vincente È ragionare Usare con gli oggetti E non Siamo così Con i dati Singoli A questo punto Come facciamo A crearla Come facciamo A popolarla Come facciamo A interrogarla Non vorrei Togliervi il piacere Di fare il laboratorio Domani però Quindi vi do Solo qualche Qualche prima indicazione Allora Prima di tutto Ci sono due fasi Quindi C'è la fase In cui Preparare Devo preparare E popolare La tendina E c'è la fase In cui devo Invece Capire Il valore Selezionato Allora Preparare Fatto questa Prima scelta Il contenuto La tendina Deve essere Aggiornato Di conseguenza E quindi Non sarà più Solamente all'avvio Oppure Ogni volta Che sia necessario Modificarlo In questo caso All'avvio E poi Chiediamoci Come Come fare All'avvio Però È un problema Perché noi La combo box Chiamiamola Box corso Che è L'elemento Che è dentro Il controller Noi abbiamo Che la La box corso È dentro Il controller Ok Il controller Però Non lo creiamo Noi Il controller Viene creato Quindi viene creata Durante il load Load Del FXML Quindi Questa tendina Quando nasce Quindi L'inizializzazione Del controller È vuota Perché Non c'è nessuno Che ci sta mettendo Nulla dentro Il controller Non può Nel metodo Init Del controller Non posso riempirla Perché? Perché non so ancora Cosa metterci Perché il controller Non sa quali sono i dati Non conosce il model Non conosce ancora Il modello Quindi Il controller Da solo Non può popolarsi La tendina Quindi L'unica cosa Che può fare Il controller È partire Con una tendina Vuota Quando è Che la possiamo Popolare Questa tendina Nel Metodo SetModel Che abbiamo Ricordate che Normalmente Avevamo Un metodo SetModel Da aggiungere Al controller Che Essenzialmente Faceva This.model Era una cosa Di questo genere Model Model Dis.model E' uguale model Era un po' Balbuziente Model 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 Detto sei volte Sulla stessa riga Ma era L'operazione Che facevamo Normalmente Questo serviva Affinché Il controller Potesse avere Riferimento Al modello Che ricordiamoci Era stato creato Nel main Per poter Fare tutte le operazioni Che seguono A questo punto Faremo in modo Che Il setModel Non solamente Si ricorda Il modello Ma a questo punto Al modello Può immediatamente Chiedere Dimmi quali sono Dimmi qual è L'elenco dei corsi Quindi a questo punto Lui dirà Ok caro modello Visto che So chi sei Dimmi Elenco dei corsi E questo elenco Dei corsi Sarà Come fa il modello Saperlo Il modello poverino Appena nato Ma questo Get elenco corsi Farà Far sì Che il modello Chiami il DAO Chiami il database Per poter ottenere Il elenco dei corsi Quindi questo Scatena La prima query Del database Quindi nel main Abbiamo il metodo Che crea il modello New model E subito dopo Avremo controller Punto setModel Il setModel Fa sì che Il controller Abbia bisogno Dal modello L'informazione Su come riempire La tendina E quindi Le chiede al modello Quando Appena può Appena conosce Chi sia il modello Prima non può Non può Perché non sa Chi è il modello Il modello Questa informazione Non ce l'avrà ancora E quindi Lo chiederà al DAO Il quale La chiederà al database A questo punto L'informazione Torna indietro Dal database Al DAO Dal DAO Al model Dal model Finalmente al controller E allora il controller Lo può mettere Nella tendina Come? La combo box Ha un attributo Ha un attributo Che si chiama Items Che contiene Gli elementi Prendiamo La documentazione Quando arriva Ok Ha una proprietà Items Ingradisco La schermata La proprietà Items Che è l'elenco È una lista Una collection È una lista Un po' particolare Un observable list Noi non abbiamo ancora visto Le proprietà I binding E quindi per ora Non sappiamo ancora La differenza Tra una lista normale E una lista Osservabile Consideriamola come Una normalissima lista Quindi gli elementi Della lista Di tipo T Dove T ovviamente È il tipo generico Della combo box Allora A sarà una lista Che è stata inizializzata Vuota Contiene zero elementi E quindi Possiamo semplicemente Noi La nostra tendina Si chiamava box corso Box corso Punto items Get items Scusami La proprietà Get items Mi restituisce La collection A questa collection Io devo aggiungere Tutta questa lista Quindi Add all Parta tonda Andiamo a capo Così si capisce meglio Così Quindi questo Grosso modo L'approccio Ok Questo è Il modo Per popolare La tendina Essenzialmente Ovviamente Se poi questa tendina Dovesse cambiare Di tanto in tanto Su questo get items Ci dobbiamo fare un clear Per ripulirla Poi dobbiamo aggiungere Nuovi elementi Ma è una lista Quindi scusate Questo è già il come Insieme al quando Era anche il come Per poi Recuperare A questo punto JobFX mi fa vedere Esattamente gli elementi Che mi servono Subito dopo Mi chiedo Come faccio Invece a recuperare Il valore selezionato E questo è facile Perché anche qui Esiste un elemento Che adesso qua Non vediamo Eccolo qua Perché è editato Da combo Box base Che è L'attributo value Value È definito Come l'elemento Selezionato Se l'input Non è editabile Adesso qui La combo box Ha una proprietà in più Il fatto che l'utente Può addirittura Inserire un dato Per conto suo Se noi lo abilitiamo Nel nostro caso Non è abilitata Quindi ci basta Semplicemente Fare un get value E quindi faremo Semplicemente Un Ogni volta che ci servirà Conoscere quel valore Faremo un box corso Punto get value E questo sarà Un oggetto corso Non una stringa E quindi mi dà Immediatamente Tutte le proprietà Che mi servono Lo stesso oggetto corso Che è messo All'interno del nostro modello Quindi di fatto La tendina Si ricorda Esattamente L'oggetto Che il modello Gli ha passato Non semplicemente Una copia Della stringa Quindi questo ci evita Tanti passaggi Di Ma andiamo a cercare Qual è il corso Che è questo nome No Lo so già direttamente Perché ce l'ho lì La 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 continuazione Della domanda Che ho visto nella chat Dice Ma se io devo però To string Lo devo stampare In modi diversi No Enrico dice Ma io Lo corso Lo voglio stampare Da qualche parte E quindi ho già Un metodo to string E nella tendina Invece voglio mostrare Una cosa diversa Quindi il modo Di stampare il corso Che voglio vedere In una tendina Deve essere diverso Dal modo di stampare Il corso Che vedo Che uso altrove Nel programma Allora in questo caso Uno Sei pignolo Ma va bene E due Semplicemente Ho due soluzioni Uso Un metodo diverso Quindi avrò Un to string Per le esigenze Di base E poi avrò Un to Longer string Se voglio scrivere Da qualche parte In modo più Completo E' chiaro che Se uso quest'altro metodo Non posso pensare Che venga Chiamato in automatico Oppure Se hai bisogno di questo Faccio una stoclasse Che non so Lo posso chiamare Corso Prolisso Che estende Corso E l'unica cosa che fa E implementa Una nuova versione Di to string Allora quando Mi serve Dopodiché I due oggetti Sono identici Tranne Il metodo To string Quindi io posso Poi convertire Da uno all'altro Facilmente Con nessuna operazione Basta fare Dalla sottoclasse Alla classe Non bisogna Far nulla Dalla classe Alla sottoclasse Posso Fare un cast Tanto so che Non crea problemi Perché è esattamente Lo stesso oggetto E allora Seconda dell'oggetto Che metto nella collection Dico me lo chiamo Alla fine Quando dovrò stampare Quella collection Me lo stamperà Chiamando il to string Dell'oggetto padre O il to string Dell'oggetto figlio Quindi sto Prendendo un oggetto Che c'è un suo comportamento E sto estendendo Quel comportamento Ridefinendolo In un certo modo Che è il tipico Caso d'uso Delle eritarietà Questo oggetto Poi in realtà Questo metodo Lo ridefinirò Perché altri Lo chiamano E sanno Che questo metodo Esiste Quindi Se abbiamo bisogno Di fare queste distinzioni Qua Si può anche Lavorare Con le sottoclasse Dunque Torniamo alle altre domande Allora Sempre rimanendo in tema Mi sembra che sia Francesco Manca Poi dopo andiamo A riprendere la domanda Di Emanuele Francesco dice Che se è sbagliato Fare un metodo A parte nel controller Per popolare il box Che richiamo dal main Il main Non richiama I metodi del controller Normalmente I metodi del controller Sono richiamati Dalla vista Secondo il modello Model view controller Una volta che il main Ha creato tutti gli elementi Poi se ne va in pensione Non ha più nulla da fare Quindi il main Crea gli oggetti E li mette In contatto Li mette in comunicazione Poi tutto il resto D'esecuzione Va avanti ad eventi C'è una cosa avviene Quando c'è bisogno Che avvenga Al limite Uno potrebbe Prima di fare Il set model Chiedere al modello Di caricare il database Quindi chiedo al model Di fare una query Però mi vedo molto male Il fatto di definire Nel controller Un metodo Che venga chiamato Dal main No Ecco Non vedrei Non vedrei Una buona soluzione L'unica soluzione Perché a quel punto Cosa dovrebbe fare Il main Dovrebbe passare Al controller Direttamente Un elenco Di 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 Corsi Bypassando il model Perché Il main Perché deve conoscere L'elenco di corsi Sembra una cosa un po' strana Chiedo Il main Chiede al model Dammi l'elenco di corsi Lo prende E lo dà al controller Quindi fa la passacarta inutile Non è un passaggio in più E poi questo avviene solamente All'avvio del programma Se uno deve definire queste cose Non si può fare Quindi il main Lasciamolo da fare Mega coordinatore Crea la vista Crea il controller Crea il modello Fa sì che si conoscono Tra di loro E poi Basta Rimane in attesa Che il programma termini Questo anche perché Adesso noi In questo caso Non stiamo ancora facendo Programmi complessi Ma se abbiamo programmi Con più videate Ogni videata Un suo fxml E un suo controller E queste videate Quando cambiamo Da una all'altra Il controller muore E poi cambiamo videata Il controller rinasce Ne viene creato uno nuovo Che a questo punto Però Deve avere lui La logica Per poter ripopolare La propria interfaccia Ok Andiamo avanti Sulle domande Dunque Questa qui Quella è Matteo Giusto Hanno perso qualcuna Sì No Hanno perso quella di Emanuele Allora Alla fine Un metodo In una classe DAO È necessario Applicare il metodo Close Anche la classe Prepare Statement O basta fare Connection Punto Close No Se faccio già Connection Punto Close È sufficiente Non è necessario Chiudere anche lo statement Perché la chiusura Di una connessione Automaticamente Chiude anche Tutti gli statement Che questa connessione Portava con sé Sia che sia Uno statement Sia che sia Un prepare statement È indifferente Da questo punto di vista Quindi Per pulizia Possiamo creare Chiudere anche Il prepare statement Ma se il metodo Del DAO Fa come deve fare Connection.close Non è più necessario Chiudere anche Gli statement Dobbiamo ricordarci Soprattutto se usiamo Più di uno statement All'interno della stessa Chiamata del DAO Ok Dopodiché Andiamo avanti In merito all'esercizio Matteo In merito all'esercizio Fatto su pattern DAO Per quanto riguarda L'insedimento del semestre Al posto di una casa di testa Non sarebbe più opportuno Usare dei radio button E delle combo box Ho solo le opzioni 1 e 2 Per ridurre I possibili errori di input Sì Allora Sì Dal punto di vista Degliamo così Dell'interfaccia utente Dal punto di vista L'interfaccia utente Se io conosco A priori Quali sono i valori Che l'utente Può inserire Quindi so esattamente Prima Quali sono i valori Possibili È sempre meglio Dare all'utente Una scelta Chiusa Una scelta limitata Quindi Una tendina Una combo box Una serie Di radio buttons Quindi i radio buttons Sono bottoni diversi Che hanno tutti Lo stesso gruppo In modo che Vendano avanti Vengano selezionati In modo Mutualmente esclusivo Uno rispetto all'altro E Così l'utente L'unica cosa che può fare È selezionare Uno di questi Quindi sì Sicuramente Dal punto di vista Della progettazione Dell'interfaccia Diamo All'utente Un'occasione In meno di sbagliare Il fatto che Lui non debba scrivere nulla Quindi noi non dobbiamo Controllare se ha scritto giusto È meglio per l'utente Ed è meglio per noi Quindi sicuramente La scelta è migliore In generale Se ci viene consigliato Un certo elemento grafico Dobbiamo strettamente Attenerci a quell'indicazione Possiamo implementare Di diverse Potete benissimo fare Qualunque mossa Migliorativa Che riteniate Quindi a meno che Non sia magari Esattito specifico Su quell'elemento Ma di fatto Non succede mai Siate aperti La progettazione Quindi se vedete Una soluzione migliore Che rispetti Ovviamente Gli stessi vincoli Siete liberi Di farlo Sicuramente Ok Umberto Non è convinto Di quando Chiamare ancora La popolazione Della Tendina E mi dice Ma io se Chiamassi questo metodo All'entry point Subito dopo Richiamo Il set model In modo da avere Due metodi distinti Uno che decide Il modello E uno che popola La combo box Io lo dico diversamente Ma cosa ne frega Al main O all'entry point Di sapere Che esiste Una tendina Cioè È un problema Del controller Della vista Sapere Se quell'elenco Dei corsi È una tendina Oppure Prendendo l'esempio Che ha fatto Matteo prima È una serie Di check box Oppure Sono Di squad Di radio button Oppure Che ne so È una tabella Con tanti caselle Con tanti bottoni Di cui uno è evidenziato Gli altri no Che ne sappiamo Quindi lo lascerei Al controller Alla vista Gestirsi le proprie cose Io dico al controller Guarda Se vuoi accedere i dati Questo è il model Fai tu E sarà poi Il controller Che dice Aspetta Però io qua Devo far vedere Una tendina Quindi ho bisogno Di quei dati Questo è un problema Suo Del controller Il controller È responsabile Che i contenuti Alla vista Siano corretti Se gli mancano Dei dati Se li va a prendere Punto Quindi Magari Per qualche motivo Io ci metterò Due tendine Due volte L'elenco dei corsi Magari uno In ordine alfabetico L'altro in ordine Di voto E perché Questo deve saperlo Il main E che deve dire Popola questa Popola quell'altra E il controller È responsabile Di controllare L'interfaccia Quindi l'importante È dare a controllo La possibilità Di accedere ai dati Che gli servono Per questo facciamo Set model Se ti servono dei dati Valle a chiedere a lui Fine Ai livelli più alti Non c'è Non è necessario Non si devono Preoccupare di queste cose Non devono avere questa responsabilità È già responsabilità sua Del controller Pensiamo che il main E il model E il DAO Cioè tutto il programma Non hanno Non abbiano la minima idea Di cosa va a finire Sull'interfaccia Gli unici che sanno Che dovrà finire Sull'interfaccia Sono il controller E l'fxml Così spero Che sgombriamo Un pochino Ognuno Qui lavoriamo Molto a compartimenti stagni Meno tu sai Dell'altro Meglio è E quindi Se lui ha dei bisogni Si risolve Non devi essere tu Che glieli prepari Uno che esercisce il modello È uno che popola La combo box Però Quando deve essere Popolata la combo box Quando deve essere aggiornata Perché deve essere Qualche classe esterna A sapere Quali sono le logiche Di aggiornamento Di interfacce interne Cerco di Convincervi Di portarvi Su questo modo Di ragionare Poi C'è una domanda Di Paolo Che mi chiede Sul pattern DAO Perché è stata creata Una classe appolita Per la gestione Dell'oggetto connection Piuttosto che Definire una proprietà Connection Dentro la classe DAO Dove nasce Di definire Un'appolita classe Per due motivi Uno perché Di DAO Potresti averne più di uno Se avessi un database Complicato Con 40 tabelle Allora non metti Tutti i metodi In un'unica classe DAO Allora fai Una classe DAO Per gestire Una parte Che ne so La parte di tabelle Che ha a che vedere Con gli utenti Un'altra classe DAO Che gestisce Che ti offre i metodi Per poter fare le query Sulla parte di database Che gestisce Che ne so I clienti L'altra che gestisce L'interfaccia L'altra che gestisce Le preferenze E quindi hai tante Classi DAO Le connessioni Sono a un livello Più basso Cioè sono una risorsa Che le varie Classi DAO Usano Quindi non è che Ogni classe DAO C'è la sua connessione Privata E si usa la sua E si apre la sua connessione E la usa solo lei No Le connessioni sono Qualcosa di più basso livello Che le varie Classi DAO Usano Per cui è bene Che chi crea le connessioni Nel caso in cui ci siano Più Noi non l'abbiamo visto Perché c'è una classe DAO Sola Ma nel caso in cui ci siano Più classi DAO E la connessione È bene che sia una sola E venga condivisa Tra tutti La logica di creazione Della connessione Questo è il primo motivo Il secondo motivo Lo vedremo Forse tra due settimane Non ho più a mente Precisamente il calendario Quando vedremo La logica del connection pooling Cioè il fatto che Adesso Ogni volta che chiamo Un metodo di un DAO Crea una connessione La uso per 10.000 secondi Per fare una query E la chiudo E quindi ci accorgeremo Quando lavoreremo Con dei dati un pochino più grandi Che questo continuo A chiudere e chiudere le connessioni Fa solo perdere tempo E quindi Faremo in modo Che le connessioni Non vengano aperte E chiuse Ogni volta che chiamo Il metodo del DAO Ma che vengono gestite In un pool Quindi ho una serie di connessioni Già aperte Sempre aperte Che vengono semplicemente Date in prestito Allora per questo motivo Ebbene centralizzare E esternalizzare Rispetto al DAO La gestione delle connessioni Perché la renderemo Più furba Quindi per ora Questa classe di Bconnect È di una riga sola È un metodo Di una riga sola Che delega brutalmente Al driver manager Ma la faremo evolvere Questa La faremo diventare più furba E di nuovo Ancora una volta Le classi DAO Non hanno bisogno Di sapere Qual è la logica Con cui vengono gestite Le connessioni Questo sarà La responsabilità Della classe Database Connection DB Connection Che è così Cosiddetta Quindi I motivi sono due Posso avere più DAO E il secondo Attenzione Che la DB Connection La rendiamo più complicata Più versatile Più efficiente E lo vogliamo fare Senza andare a toccare Il DAO sovrastante Perché il DAO Ha già I suoi problemi A fare le query giuste Quindi è bene Che non diamo Anche alle classi DAO Il problema Di gestirsi La o le connessioni Quindi è un passo Adesso sembrerebbe inutile Ma è un passo intermedio Poi ci servirà Poi abbiamo Leandro Che mi dice Che nel punto 6 Del lab 4 Bisogna modificare il database Aggiungendo lo studente Al corso Aspetta Che lo vado a leggere Queste domande così A bruciapelo Punto 6 Del lab 4 Punto 6 Dove sta scritto Sto maledetto Qua Implementare la funzione Di iscrizione O studente a un corso Ok Quindi il corso Esiste già Lo studente Esiste già Della tabella Degli studenti E col pulsante Iscrivi Tu aggiungi Lo studente Al corso stesso Ok L'iscrizione Di un studente A un corso Avviene attraverso La tabella Intermedia Qui non ce l'abbiamo Sto maledetto Di Stru No Abbiamo messo La struttura Del database Iscritti i corsi Punto SQL Vedete che ci sono Tre tabelle La tabella Con gli studenti La tabella Con i corsi E la tabella Relazione Che dice Quale è l'iscritto Lo studente Iscritto a quale corso Ok Quindi fare Iscrivere Uno studente A un corso Significa Aggiungere Uno studente A questa tabella Di iscrizione Lo posso fare Semplicemente Facendo un insert Quindi insert Into Quella tabella Avrò A due colonne Se non ricordo male Se no Andiamo a prendere Il database Ce lo importiamo Un attimo A due colonne Una è il codice del corso E l'altra È la matricola Del studente Quindi non c'è nulla Di particolare Da fare Semplicemente Si aggiunge Fa una query Che non sarà Una Con un prepare statement Non sarà Un execute query Perché non sto facendo Una select Sarà una execute update In istruzione Tipo insert E quindi sarà Una Una cosa Del tipo Devo fare una query Del tipo Insert Into Iscrizioni Non mi ricordo Come si chiama La tabella Chiedo scusa Quindi Se ce l'avete al volo Ditemelo Se no Magari poi vado a prendere Il database Solo che ci vuole un attimo Per importarlo Values Scusate Iscritti E poi Matricola Studente Virgola Codice corso Values Punto erogativo Punto erogativo Iscrizione Grazie E i nomi delle colonne Le colonne di iscrizione Si chiamano Per favore Matricola Codings Perfetto Codings Ce l'ho quasi arrivato Ok Quindi questa è la query Di inserimento Che dovremmo fare E quindi il metodo Del 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 DAO Riceverà un oggetto Studente E quindi farà Studente Punto get Matricola Un oggetto Corso E farà Corso Punto get Codings E quindi Questi due valori Li può inserire Al posto dei punti Erogativi Dovrò usare Ovviamente Il prepared Statement Punto Execute Update Avendo preparato Questo statement E nulla di più Nulla di particolare Execute Update Ricordiamoci che Ritorna un valore intero Il risultato Non è un result set Ma è un intero E questo intero Ci dice Quanti elementi Sono stati modificati In questo caso Non è insert Quindi quanti elementi Sono stati inseriti Quindi normalmente Deve restituire uno Se restituisce uno Vuol dire che è riuscito A inserire l'elemento Se restituisce zero Ma in questo caso Non dovrebbe succedere Perché l'unico motivo Per cui non potrebbe Non riuscirebbe a inserire Quell'elemento Sarebbe perché Esiste già E quindi Hai una violazione Di chiave Ma a questo punto Ci genererebbe Un'eccezione Quindi Ti causano Una SQL Exception Se cerchi Di reiscrivere Lo stesso studente Allo stesso corso Perché la chiave primaria Della tabella di iscrizione È una chiave primaria Doppia Che contiene i due campi Quindi se provi A reiscrivere Lo stesso studente Allo stesso corso Genera una SQL Exception Che viene catturata E quindi non ritorna Nessuno intero Quindi però È buona norma Se io so che devo Inserire un elemento Verificare che il risultato Sia uno È un numero intero In questo caso Non devo fare Più nulla Dal punto di vista Dell'interfaccia Perché Non ho modificato I corsi Non ho modificato Altro Però Ricordiamoci che Se io Nel mio modello Avessi L'informazione Di chi è iscritto A quale corso Quindi questa tabella Iscritti Me la fossi letta All'interno Di un error list Devo fare attenzione Che a questo punto Devo rileggere Devo rinfrescarla Devo aggiornarla Perché io ho Aggiunto un dato Nel database E nel model Avevo una copia Di quei dati Del database Che avevo letto prima Che a questo punto Non è più aggiornata Quindi devo fare attenzione Finché faccio query Va bene Perché sto solo leggendo Ma quando comincio A modificare Mi devo chiedere Ok Nel database Ho modificato questo Quali sono i dati In possesso del model Che adesso Non sono più validi Perché avendo modificato Qualcosa Devono essere riletti E allora a questo punto Model E nel caso Le ricostruisco Ok Poi abbiamo Dunque Federico Che mi chiede Che Monge Preferisce usare Integer Come classe Anziché Int Come tipo primitivo Quando Quando e perché Da preferire Non ci sono Problemi Non ci sono Differenze Sostanziali Perché da Java 5 in avanti Se ricordo bene C'è un meccanismo Che si chiama Di autoboxing Per cui Java Converte automaticamente Un int primitivo In un integer class Oppure un integer In un int Tutte le volte Che ne ha bisogno In un certo senso Quindi su meccanismi Di conversione Automatici Non È chiaro che Quando hai bisogno Di passare un oggetto Tipo Dovesti fare Una lista Di interi Sei obbligato A usare La classe Integer Perché la lista Deve essere Di oggetti E non di dati Primitivi Però Quando pensiamo Al passaggio Di parametri Di funzione O ritorno Di valori Eccetera Sono abbastanza Indifferenti Ecco L'unica cosa Forse Che pende A favore Allora Del dato primitivo È un pedino Più veloce Perché non deve Creare l'oggetto Distruggere Eccetera Ma è una cosa Impercettibile A favore Dell'oggetto È il fatto Che un oggetto Può anche essere null Per cui Se io Ho un intero Questo intero Deve essere Per forza Un numero Invece Un oggetto Può essere anche null Quindi se chiami Un metodo Che dovrebbe restituire Un valore Questo valore Magari non esiste Per causa di errori Non può essere trovato Posso fare Una Restituire un valore null Per indicare Che il valore Non c'è Se invece Avesse un int Mi trovo in imbarazzo E non so Quale valore restituire Un esempio Ce l'abbiamo Nel metodo Parsint Quando chiamiamo Il metodo Parsint Gli passiamo Una stringa E lei deve restituire Un intero Quando Questo intero Non esiste Perché la stringa Non rappresenta La formattazione corretta Per un numero intero Che fa? Non può restituirmi Zero Perché zero Potrebbe essere Il valore giusto E non può restituirmi Non c'è un numero intero Che sia palesemente Non valido E quindi genera Un'eccezione Quindi il fatto Che la parsint Restituisca Un primitivo int E non un oggetto Integer Fa sì che sia Più complicato Da usare Se andate A vedere Che so Il metodo Getint Della Della classe JDBC Vi dà cosiddete Che restituisce Un oggetto Integer E quindi se per caso In quella colonna Non riesce a leggere Un intero Trovate null Quindi restituisce null E con quel null Andate a vedere È un null Quindi è successo Qualche cosa Quindi è più Se vogliamo Versatile Avere un riferimento Piuttosto che un intero Però veramente Sono cose di Minima comodità Dal punto di vista Concettuale Sono molto intercambiabili Molti linguaggi Diciamo così Successivi Penso Python Penso JavaScript Hanno annullato Questa distinzione Tra tipo primitivo È oggetto E di fatto Fanno sì Che tutti Siano oggetti Quindi Se vogliamo pensare Più moderno Allontanarci più Dal C Usiamo la classe Intega Ok Domanda di Matteo Riguardo al DAO Non mi è chiaro Perché le classi Degli oggetti Presenti nel database Le inseriamo Nel package model E non DAO Sono classi Che riguardano Direttamente I dati del database E quindi Di competenza Del DAO E di tutti e due In realtà Sono classi Che Stanno al di sotto Del model Perché il model Le usa per costruire Le proprie strutture dati Ma già prima Di conoscere il database Avevamo delle classi Ricordate Dentro il package model Avevamo la classe model E poi avevamo Gli oggetti In cui memorizzare Quando facevamo Liberto voti L'esercizio Sul liberto di voti Il database Non lo conoscevamo ancora Eppure nel model Avevamo sia La classe libretto Che aveva la logica E sia la classe voto Che conteneva i dati Adesso quello Che stiamo facendo È che questi oggetti Semplici Tipo l'oggetto voto Diventano anche Accessibili al DAO Il quale Li può usare Per trasferire Dei dati Avanti e indietro Sono più di proprietà Del model O più di proprietà Del DAO Non lo saprei Se uno volesse fare Il pignolo Li metterebbe In un package Ancora diverso Perché è un po' brutto Che il Che il database Veda All'interno Del package Model Ma Sono cose Minime Quindi Però dietro a questa domanda C'è un ragionamento Che secondo me è bello E' bene Far emergere Io non progetto Quelle classi Pensando solo Alle query Ma progetto quelle classi Pensando all'uso Che il model Ne deve fare E poi Il DAO Userà Quegli oggetti Che sono Gli oggetti Che arrivano Dal modello Quando prima abbiamo parlato Di questo metodo Insert Io dentro il DAO Lo voglio vedere Non lo voglio vedere Così Public Che ne so Void Perché non ha bisogno Di restituire nessun valore Inserisci Studente Allora Non lo voglio vedere Sicuramente Con Int matricola String Codice d'inseramento Perché Aveva sempre detto No ma noi non usiamo Variabili sparse Valori Valori Singoli Isolati Usiamo oggetti Allora uno potrebbe dire Ah tu vuoi che usi oggetti Allora usiamo un oggetto Io ti definisco un oggetto Iscrizione E E E questo oggetto Iscrizione Avrà due campi Che sono Che sono La matricola Appunto E il codice D'inserimento Allora Cosa abbiamo fatto qua Abbiamo creato Un oggetto Solo Ed esclusivamente Per poter chiamare Questo metodo Un oggetto Finalizzato Se stesso Che contiene Informazioni parziali Sulla matricola Informazioni parziali Sull'insegnamento Perché non è tutto Il studente Solo la matricola Non è tutto L'insegnamento Solo il codice E con un oggetto Che viene usato Solamente lì Usa e getta Funzionalmente Solo a quel metodo Perché in quel momento Sembra che ci serva Un oggetto Che fa questo Allora questo è un lavoro Secondo me inutile Non andare a creare oggetti Che usa una volta sola Solo perché Vogliamo essere Puliti E mettere un oggetto La cosa migliore È di Di usare Degli oggetti Che esistono già Quindi sarà Point void Inserisci studente In cui passo Lo studente E il corso C E poi Da qua Ovviamente Pescherò S.get Matricola Per inserirlo qua E c.get Codice Inserimento Per inserirlo qua Quindi in questo senso Cerchiamo Il più possibile Poi in alcuni casi Non sarà possibile Ma il più possibile Di inventare Di progettare I metodi del DAO In modo che usino Degli oggetti Che hanno già Un senso Per il model Così il model Continua a ragionare A modo suo È il DAO Che si adatta A come sono rappresentati I dati nel model Perché altrimenti Avremo un model Che di fatto Ragiona a troppo Basso livello In teoria Se anche Modificassimo Un pochino La struttura Del database Il model Potrebbe anche Non accorgersene Se progettiamo Bene queste cose Poi come dicevo Non sempre è possibile Se devo fare Certo tipo di interrogazione Magari mi restituiscono Dei dati Fatti in un certo modo Che è solamente Proprio funzionale A quell'interrogazione lì Allora mi creerò L'oggetto Che userò Una tantum Ma ovvero possibile Cerchiamo di evitarlo Poi Sonia mi dice Che a programmazione Oggetti Utilizzando le mappe Avevamo notato Che le chiavi Potevano essere Solamente tipi primitivi Ma no Ma no Mentre nella prima parte Del primo testo DAO Abbiamo creato La map con corso Integer No no Non è cambiato Nulla di nulla Cioè nelle mappe La chiave Può essere Un qualunque oggetto Per cui sia definito HeshTable Equals Un oggetto HeshABLE Per cui abbia Ben definita Una funzione HeshTable E Equals Questo è l'unico Prerequisito Affinché un oggetto Possesse una chiave Di una mappa Quindi un oggetto Ben definito Per cui sia definita Una nozione Di uguaglianza Forte Non necessariamente Di confronto Non serve avere Il compare to Però Equals E HeshCode Sono la condizione Necessaria Affinché Io possa inserire Un oggetto In una mappa In una lista Per inserire In una lista E essere in grado Di ritrovarlo Mi basterebbe avere Il metodo Equals Per poter trovare L'elemento Per usare Il metodo Contents Eccetera Per inserire In una mappa Poiché la mappa Si basa Internamente Su una tabella Di Hesh Per velocizzare Le operazioni Mi serve anche Il metodo HeshCode Quindi questo Non è cambiato nulla Non era vero Il fatto che Fosse possibile Usare solamente Tipi primitivi Anzi Altrimenti sarebbero Abbastanza inutili Queste mappe Si è possibile Si è possibile Che magari Questo ragionamento Sull'heshCode L'abbiamo fatto solo adesso E quindi Sugli oggetti Che vi create I oggetti primitivi Ce l'hanno già Gli oggetti che vi create voi È un passo in più Che va fatto E va compreso Ok Dunque Come deve essere fatta Mi chiede Enrico La stampa Per formattare i testi Come nella figura 2 Ah Con tutti gli spazi Allora In questo caso È stato usato Innanzitutto Un font Non proporzionale Quindi un font Tipo courier Che ha O consolas O cose di questo genere Che ha La larghezza Di carattere Tutto uguale Ok E quindi È stato modificato Rispetto al font Di default Che ci dà JavaFX Che è predefinito Come font In In SimBuilder Quindi la proprietà Della textarea Dovete andare a modificare La proprietà font Mettendo un font Di mono spaziato Non proporzionale E poi Questo è stato Ottenuto Diciamo Aggiungendo Degli spazi Ove necessario Quindi Usando Le I metodi Di formattazione Di Java C'è tutto Un linguaggio Di formattazione Che è uguale Alla fine Diciamo È uguale A quello che conoscevamo In C Se ricordate Ai tempi addietro Quando si faceva La printf Dove c'erano i vari Formattatori Per 100s Per 100d Eccetera Eccetera Qui esistono Anche qua Nel metro format Dei string Ed è possibile Specificare Ad esempio Che questa è una stringa Allineata a sinistra Di almeno Che non so 20 spazi E allora A questo punto In automatico Lui quando costruisce La stringa Ci mette il nome E poi ci aggiunge Gli spazi davanti Vediamo se riesco a trovare Al volo La documentazione Da farvi vedere Vediamo Postre In punto format Java No Questo è il formatter Delle date Scusate Siamo andati a finire Nel posto Sbagliato Vediamo questo qui A caso Ecco qua Cosa che già Come si faceva in C Quando facevo Una printf Io posso Usare Metodo format Dell'oggetto string Dando un template Di formato Con degli specificatori Di formato Ad esempio Per 100s E poi dopo I parametri Che mi interessano E poi posso Cambiare Chiaramente La dimensione Ad esempio Nel caso Del percento f Posso dire Numero totale Di cifre Numero di cifre Dopo la virgola Nel caso Delle stringhe Dove Non so se c'è un esempio Qua Posso dare 07d Vuol dire Massimo Sette cifre Non sono esempi Molto ricchi Però La La documentazione Di tutti Già Java String Format .format La classe giusta Andiamo a trovarla Non formatter Non voglio esempi Voglio la definizione Va bene La prendiamo da qua Non è formatter Non è java Util formatter Ma è java String Java .format Eccoci qua Cerchiamo La classe string La classe string Perché non c'è chi è a sinistra Ma ho detto Vabbè Method summary C F FG Eccolo qua Format String String format Che può usare La string Di formato E una serie Di argomenti La string Di formato Può usare Tutti questi Specificatori In particolare Per cento s Converte Sotto forma Di stringa Chiamano Metodo To string Dell'argomento E poi può avere Tutta una serie Di flag O Specifiche ulteriori Ad esempio A noi serve La lineare a sinistra Quindi si fa col meno Left justified E la dimensione Massima Minima Degli spazi Da aggiungere Quindi in questo caso Sarebbe un Per cento 20 s Da inserire Per mettere Stampare il nome Con almeno 20 caratteri Dopodiché Giustamente Matteo mi dice Sì però Se io non so A priori Qual è la lunghezza Massima Del nome Del cognome Quanti spazi Devo mettere Allora Le soluzioni Sono due Almeno Tre Una fregarsene Nel senso che Se per caso Uno studente Che ha i nomi Troppo lunghi Vabbè Quella riga lì Sarà fuori Formattazione E pazienza Oppure Soluzione due Troncare Cioè Decidere che I nomi Troppo lunghi Se io lascio Dedico 20 caratteri Per il nome I nomi Che sono lunghi Fino a 19 caratteri Vanno bene I nomi Che sono lunghi Di più Vengono tagliati Quindi stamperò Solamente i primi 19 Il format Non me lo fa Ma devo Troncare la stringa Prima Quindi devo Estrarre una Sottostringa Prima Se sbaglio Sopstring Il metodo Per estrarre una Sottostringa La stringa data Massimo Lunga massimo 19 caratteri E poi La stampo Dando una dimensione Minima Di 20 Quindi in questo caso Sono sicuro di non sforare Al limite Qualcuno avrà il nome tagliato Terza soluzione Faccio una prima passata Sui dati Per calcolare Qual è la lunghezza massima Del nome E quindi se c'è un tizio Se volessi fare Se volessi fare delle cose Un pochino più sofisticate Dovrei creare In JavaFX Un oggetto di tipo Table Una tabella Non è Immediatissimo Non è neanche Complicatissimo Magari Dedichiamo poi Se riusciamo a dedicare Del tempo Per farvi vedere Come creare tabelle Di fatto La tabella Ospita Un elenco di oggetti E ospita Dei metodi Che dicono Ok Quale campo Di quale oggetto Va a finire In quale colonna E quindi poi Ci pensa lui A formattarla È molto Più potente Da questo punto di vista Perché gli do gli oggetti La tabella Li impagina Però ovviamente Devo spiegare Quali sono le regole Di impaginazione Ok La domanda successiva Di Lorenzo Mi chiede Se Come posso mettere Due bottoni Agli estremi Di una finestra Come nelle immagini C'entra E scrivi Allora Queste qui Le puoi fare Dipende dal contenitore Ok Nel senso che Questi due oggetti Sono contenuti Senza andare a vedere Questo FXML specifico All'interno di Un elemento di layout Allora Se abbiamo Un elemento di layout Come Ad esempio Una Un H-box Una scatola orizzontale Lei per sua natura Li mette tutti Da sinistra verso destra Ok E quindi Li troveremo tutti appiccicati qua A sinistra Oppure tutti appiccicati a destra Nel caso in cui L'allineamento Fosse un allineamento Destra In questo caso Potremmo Anziché usare Un H-box Potremmo usare Un anchor box Un anchor box È un ancora Cioè un contenitore Di layout I cui elementi All'interno Possono essere Posizionati Dicendo Quale distanza Devono assumere Da uno qualunque Anzi Massimo due qualunque Dei quattro lati Quindi Praticamente Avremo un anchor box Anziché un H-box Dove Questo primo elemento Lo ancoriamo Dicendo che ha Top 0 E left 0 E quindi Si allinea In alto A sinistra Quest'altro elemento Diremmo che è il top 0 E il right 0 E il destra Uguale 0 E allora a questo punto Si aggancia a destra E quindi In questo caso Se abbiamo degli elementi Che vogliamo posizionare In una posizione nota Rispetto Ai margini Del contenitore L'anchor Potrebbe essere Il contenitore Più adatto E quindi Va allineato così L'altra alternativa Che però Non è molto carina Mette due H-box Sovrapposti Uno sull'altro Trasparente E una lineata a sinistra L'altra lineata a destra Però È un po' una porcata Ecco Per quello che ci viene in mente Dopodiché Lui dice Che la textarea Dove usare i risultati Ai bordi delle ombre più scure Si possono rimuovere O quelle rimangono Più scure Quelle che vengono a te Rispetto a quelle del testo Forse Ci sono delle proprietà shadow Della textarea Alcune ombre Sono native Nel senso che Danno L'effetto del rilievo Se uno non aggiunge altre Però Non so se si nota Anche intorno Alle caselle di testo C'è un piccolo Un'ombra che entra dentro Un piccolo di ombra Che cade fuori Quindi Sono effetti Di un paio di pixel Che sono nativi Non so se Se tu hai notato Delle Delle ombre più pesanti C'è anche Una differenza Che serve a rendere Visibile all'utente Se un determinato campo di testo È editabile Oppure no Quindi vedete Che il bottone Editable Ha questo Il campo di testo Editable Ha questo bordo Che fa capire Che l'utente Può andarci dentro E scriverci Se invece vedete Che non è editable Cambia un pochino L'aspetto E quindi diventa Meno In rilievo Può darsi Che questo L'effetto Che hai osservato Sia dovuto Il fatto Che la casa di testo Sia o meno Editable Modificabile Adesso nel caso Da textarea Non dovrebbe essere Modificabile Dell'utente Tu mi chiedi Come si chiama Quell'anchor walk Di cui ho parlato Mezz'ora In sim builder Quindi mi stai dicendo Che ho sbagliato il nome Cosa che non è improbabile Adesso vediamo Di aprire sim builder E troviamo Esempio concreto La domanda di Federica È semplicemente Un leggero sfasamento Quelle classi lì Icari E compagnia bella Le vediamo più avanti Quando vi parlavo Di connection pooling Ok Quindi Sono state messe Per sbaglio In quell'esercizio Adesso se andate A prendere la versione recente Sono state tolte Sono state tolte E quindi adesso Non le trovate più Le studieremo Più avanti Sono le classi Che servono Per gestire Un pool di connessioni Quindi È trasparente Nel senso che Se guardate la classe Di Bconnect Se la usate Senza guardarla Non vi accordete Di nulla Di diverso Però per ora Effettivamente Era prematuro Inserirle Allora abbiamo rimesso La classe Semplice Che abbiamo visto insieme A lezione Questa settimana Anchor pane Grazie Esatto Anchor pane E io quindi Posso avere due bottoni E si posizionano All'interno Vedete che ciascun elemento Ha delle proprietà Perché uno Sia dentro l'altro Via Bottone E le proprietà Di layout Dicono Quanto deve Star distante Dai quattro bordi In questo caso Ho fissato I quattro numeri Semplicemente Cliccandoci dentro Che mi fissano La posizione corrente Ma non è una grande idea Perché se dovessi Ingrandire O ridurre Questa finestra Questi valori Sarebbero Sbagliati E quindi Se lo voglio In alto a sinistra Basta che io metto Uno zero qua Uno zero qua E lui è posizionato In alto a sinistra Dopodiché Vedete che sono solo Due lati rossi Quelli rossi Sono quelli in cui È specificato il valore Quello invece In cui non specifica Il valore Assume La regola di allineamento Quindi non Quindi se avessi Il secondo bottone Lo potrei inserire Qui lo metto a caso Ma poi dico Guarda Vai a destra In alto Zero Zero Caro mio E lui si posiziona Là in alto a destra Ovviamente Questa non sarà Tutta la finestra Sarà semplicemente All'interno Magari abbiamo La finestra Fatta come Un V-box All'interno Di una delle righe Della V-box Mettiamo questa Anchor box Se avessimo Più Elementi Da allineare In questo modo Allora potremmo usare Ad esempio Una griglia Una grid Grid pen A questo punto Ho quattro bottoni Li voglio equispaziare E va bene Farò una griglia Larga Quattro colonne E metterò Un bottone In ciascuna Di esse Quindi Ad esempio Il bottone Lo metto qua L'altro bottone Lo metto qua E se ne ho altre Li aggiungo Nelle varie caselle E quindi Una griglia È invisibile Di per sé Le righe Le colonne Non le vedo Ma semplicemente Mi dispongo Gli elementi Con delle regole Che sono date Dalla larghezza Delle colonne Quindi anche qua Le colonne Possono essere L'imposto Di una larghezza Fissa E non calcolata Come larghezza preferita Ad esempio qua Un 100 Oppure Una larghezza Percentuale Che fa sì Che io decido Se ho due colonne Le dimensioni A 50% Ciascuna Se invece Voglio una più grande Dimensione A 75% E l'altra Prenderà Il 25% Quindi Queste regole Di dimensionamento Della griglia Mi permetto Di posizionare Gli elementi In modo anche Ordinato Rispetto A uno spazio Che ho a disposizione Che in questo caso Sarà lo spazio Del grid pane Gabriele Dopo avervi Dato il nome Dell'oggetto Mi chiede Come si può Impostare La dimensione Della lunghezza Della textarea Uguale Della lunghezza Della finestra Altezza O larghezza Intendi Quindi inseriamo Una textarea Larghezza E la textarea È un po' Anarchica Da questo punto di vista Perché ha Una larghezza Minima e massima Se noi possiamo mettere Anche chi Use computer size Questa dimensione È calcolata Sulla base Del numero Di righe Di colonne Quindi ha un contenuto A differenza Di un bottone Che ha una dimensione Fissa Poi dipende Da cosa ci scrivo Dentro O di una label Che cresce Con la crescita Del testo Questa è predisposta Per avere una certa dimensione Righe e colonne Quindi ha una certa dimensione Di base Perché Ha un numero Default di colonne Se io la voglio fare Più larga O più piccola Posso cambiare Il numero di colonne Adesso ho 80 E diventa molto più ampia 20 E diventa molto più stretta E così via Questa è Il numero di colonne Preferito Allora Il numero di colonne Preferito Viene definita La larghezza Preferita E quindi In qualche modo Lei si adatta Rispetto al contenuto Che 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 prevede Per renderla Per renderla Larga Come la tabella Come l'intera Finestra In modo che si allarghi Non mi pare Che ci sia Un modo Perché Altri elementi Hanno delle proprietà Can grow Quindi che è in grado Di crescere Quando il suo contenitore Cresce Ma Mi sembra che Nella textarea Non ci sia Questa possibilità E quindi L'unico modo Fatemi vedere Se c'è qua Nella proprietà Ma mi sembra Non sono mai riuscito A farlo bene L'unico modo Sarebbe Fare fatica Nel senso che Andare a intercettare L'evento Di ridimensionamento Della finestra E andare a Reimpostare La larghezza Quindi non lo fai In automatico Lo dovremmo fare noi Quindi andare a prendere In questo caso Il grid paint Che la contiene Il grid paint Ha un evento Un resize Da qualche parte E tutte le volte Che viene ridimensionato Vado a fare Un piccolo event Ender Che va a modificare La larghezza Della textarea Però questo Vuol dire Fare a mano Ciò che il layout manager Non è in grado di fare Perché questo oggetto Non si adatta Dinamicamente Come dimensione Ma la stessa cosa In parte Succede anche Alla textarea Cioè Una casella di testo E tu allarghi La finestra La casella di testo Mantiene Normalmente La sua dimensione La flessibilità Ce l'abbiamo Soprattutto sui contenitori Ma sui singoli controlli Non c'è Così anche quando Stringi la tabella La textarea Viene tagliata E non Invece Ristretta Purtroppo La flessibilità Non è massima Da questo punto di vista Allora 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 Siamo ancora due domande Allora Una di Lorenzo Di prima Che non avevo visto Che diceva Nella figura 2 L'ombra che c'è sulla textarea Nella figura 2 Sul lato sinistro Questo qui Questo credo che sia un margine C'è anche qua Credo Sul lato sinistro Vedete che c'è questa sbarra qua E questa sbarra qua Probabilmente è stato dato Un margine interno Alla textarea Rispetto Rispetto al suo contenitore Esatto Quindi è Semplicemente un margine Che distanzia Il bordo Della textarea Dal contenuto Del testo E questo margine È stato colorato In un certo senso Di grigio Quindi non è Un effetto È un effetto Di proprietà Appunto Del singolo elemento Poi avevamo Matteo che mi diceva Se su SimBuilder Esiste un metodo Per cui si adatti Il formato della finestra E eventuali variazioni Di dimensioni Della finestra stessa Allora Tu puoi usare La flessibilità Che c'è nei metodi Di layout E quindi cercare Di usare I vari automatismi Per cui Ad esempio La dimensione Della griglia In questo caso Use Computer Si adatta Alla dimensione Del suo contenuto Quando tu allarghi Tanto la finestra Potresti avere Appunto Una tabella La griglia Se non sbaglio Si può Si può avere Non so se si può Scrivere 100% Non credo Non so Sono 100 pixel Ci sono alcuni elementi Che crescono automaticamente Tipo L'Hbox La Vbox Che se cresce Il loro contenitore Loro crescono Però Il loro contenuto Non cresce Di per sé Quindi si distanziano Di più gli elementi All'allargarsi Della finestra Quindi rispetto A quello che siamo Abituati Sulle applicazioni web Che sono Come si dice Responsive Cioè quando Io le ridimensiono Magari ci sono alcuni blocchi Che si spostano O spariscono O cambiano forma Questo Il layout manager Con le classi Di layout Di base Di JavaFX Non è in grado Di farlo Ancora Quindi c'è un minimo Di flessibilità Nel senso che Se la finestra è più larga Alcuni testi Lui può giocare Su larghezza minima E larghezza massima Ogni elemento Ha queste dimensioni Minime Dimensioni massime E se sto stringendo Il suo contenitore Lui ragiona Ricorsivamente Il layout Se sto stringendo Il suo contenitore L'oggetto cerca Di stringersi Fino alla larghezza minima Se invece ha più spazio Cerca di allargarsi Fino alla larghezza massima Molto più di questo Non si riesce a fare Con le classi native L'unico Che è un pochino Più intelligente È il flow Il flow pane Adesso mi viene in mente Perché È in grado di andare a capo Quindi Se io metto Degli elementi In un flow pane Se ci stanno Tutti sulla stessa riga Li mette uno A destra dell'altro Li imposto Da sinistra a destra Ma se per caso La finestra si stringe Prende l'ultimo Lo manda a capo E quindi Come se avessimo Una galleria di immagini Tutte le miniature Delle immagini Stringo la finestra Allora le immagini Si ridispongono Vanno a capo Si dispongono Su meno colonne Ma più righe Questo flow pane Lo fa Ovviamente Se stringo la finestra Devo poi alzarla Per poter vedere tutto Oppure Per vedere una scrollbar A destra In modo che Possa poter scorrere Questo diciamo È l'elemento più Furbo Dal punto di vista Del layout Tra quelli che sono disponibili Nativamente In JavaFX Allora Gaia mi dice Che nella combo Se inserisce Dei valori Tipo corso Come faccio A inserire Anche un valore Vuoto Per indicare Che voglio selezionare Tutti gli studenti Di tutti i corsi Allora La Combo box Può Non essere Selezionata Può essere Non selezionata Quindi quando Vedete qua Corsi Quando clicco Su questo Comparirà l'elenco Di corsi Ma inizialmente Così Nessun elemento È selezionato Quindi quando faccio Get value Mi restituisce null Perché mi dice Che non c'è nulla Attualmente selezionato Quindi non è un valore In più Che devo aggiungere Ma è un valore Non aver selezionato Alcun valore Quindi Se devo Se non voglio Selezionare un elemento Posso semplicemente Rendere La tendina Non Non scegliere null Da questa tendina Al get value Receiverò Un valore null E quindi poi Uso quel null Per dire Tutti i corsi Oppure Posso arricchire Un po' l'interfaccia Mettere magari Una casolina di spunta Qui a fianco Oppure a fianco di corso Una casolina di spunta Che dica Vuoi selezionare un corso? Sì Allora dimmi qual è Quindi una casolina di spunta Che se è selezionata Rende Abilita Questa Questa combo box Se non è selezionata Invece la disabilita E quindi separiamo Le due scelte Concettuali Scelgo un corso Sì o no Se voglio sceglierlo Quale scelgo La terza cosa Ancora possibile Potrebbe essere Di aggiungere Un corso fittizio Un nuovo oggetto corso Di cui siamo coscienti Che non sarà Un corso reale E questa è un po' Tra l'altro è una porcata Però si può fare Nel senso che Noi abbiamo messo Dentro gli items Della combo box Una copia Degli stessi oggetti Che avevamo nel model Ma nessuno ci vieta Di aggiungere Magari per primo Un altro oggetto speciale Che Che sia sempre Un oggetto Di tipo corso Ma il cui valore Della cui denominazione Si ha Ad esempio Tutti i corsi Allora compare per primo E Quando lo selezioneremo Prima ovviamente Di passare Diciamo così Di chiamare il metodo del model Andremo a chiedere Per caso È quell'oggetto speciale Che ho inserito prima Che magari è un codice Non so 0 0 0 0 0 Tanto non viene visualizzato Allora se sì Allora chiamerò dei metodi Per dire Dammi tutti i corsi Se invece no È un oggetto normale Chiamerò degli altri metodi Del model Per lavorare con quel corso lì Quindi è sempre possibile Aggiungere un metodo speciale Il fatto che lo aggiungiamo Nella collection Degli items Della combo box Non va a modificare La collection Del model ovviamente Quindi è una cosa in più Che aggiungiamo Facendo poi attenzione A gestirlo chiaramente Tornando ai due bottoni Si è sbagliato Usare un H-box Inserire due bottoni E dare margine tra i due Eh sì Però devi sapere Quanto margine dare Nel senso che Se poi questa finestra Fosse un tantino più larga Questa distanza Rimarrebbe costante Il margine che gli hai dato E quindi questo bottone Non sarebbe più a destra All'estrema destra Ma L'avrebbe ancora Dello spazio Alla sua destra Quindi non è Sarebbe una soluzione Diciamo così Funzionale Ma non ideale Perché non è Non si autoadatterebbe Però Avevamo già discusso prima Che ci sono dei limiti Nella capacità Di JavaFX Di autoadattarsi Quindi Conviviamoci Essenzialmente Ok Spero di non avervi Spoilerato troppo Le soluzioni Del laboratorio Di domani Perché altrimenti Non vi divertite più Sulle prime domande Che mi avete fatto Sulla combo box Dunque Gabriele mi fa Una domanda Molto Strana Si è sensato Scatenare Delle eccezioni Con dei Throws Anche Per delle risposte Positive Così da bypassare Un pezzo di codice E dare subito Risultato Nel textarea Così come È inopportuno Usare una catena Di if Per controllare Gli errori Perché esistono Le eccezioni È inopportuno Usare le eccezioni Come metodo di controllo Quando in realtà Potresti usare Una if Quindi È ovvio Che nessuno Così può Arrestarti Se usi Se genera Un'eccezione Che dica Va tutto bene Però quantomeno Stai usando Uno strumento Al di fuori Dal modo In cui Era stato pensato Quindi La risposta È Possibile Ma La risposta Sul fatto Che sia sensato È no Ok Ci sono altri Messaggi O domande Vi pare che Questa modalità Vada bene Dei video Più le chat Settimanali In altri corsi Ho avuto Le lamentele Che mi diceva Eh ma cosa Mi ci dai già Perché di fatto In video Vediamo tante ore Quante sarebbero Le ore di lezione E quindi Queste ore qua Di chat Sarebbero In più Rispetto all'orario Un'altra cosa Che sto facendo Si sono un po' lamentati I studenti Dicendo Ci fai fare più ore Però Se Va bene Sì esattamente Sono In qualche modo Cerco di sostituire La domandina Che avviene in aula Oppure Nell'intervallo Non ho capito una cosa Mi dare una spiegazione Potrebbe essere utile Assolutamente Sono per detto Che i gestionali Capiscono prima Le cose Sul modo di funzionamento I laboratori Funzionano bene Secondo voi La modalità Di dare assistenza E poi di recapitolare Verso la fine Le fact principali Di cosa Noi dovremo anche Adesso Non faccio promesse Però Noi Sa che abbiamo Tutti Il borsista Che normalmente Ci dovrebbe aiutare In laboratorio Adesso Questo borsista È parzialmente Disoccupato E una delle idee Che abbiamo avuto È chiedere Al borsista Di fare Delle Soluzioni Rapide Dei laboratori Quindi dei video In cui Non risolva Passo passo Perché altrimenti Sarà un video Di tre ore Ma che Commenti una soluzione Faccia vedere I passaggi principali Della soluzione In modo da avere Anche non solamente La soluzione Ma anche I vari passaggi In un video Che poi cercheremo Di pubblicare Magari Non per tutti gli esercizi Forse solo per quelli Un pochino più significativi Quindi cercheremo Di mettere a disposizione Questo Non così In tempo reale Settimana per settimana Perché chiaramente Va preparato Va visto Però potrebbe essere Un materiale Che via via Vi aggiungiamo Soprattutto in vista Delle ultime settimane Dove Gli esercizi Si fanno un pochino Più complessi Dove ci sono poi Le componenti Algoritmiche Quindi questo Giusto per Come anticipazione Va bene Come sempre Per qualunque cosa Ci possiamo sentire Via Sul canale Telegram Su cui qualcuno Mi sta scrivendo In questo momento In tempo reale Non riesco a rispondere Ma risponderò più tardi Ti ringrazio Per ora E direi che Ci possiamo salutare Fino a settimana prossima Che non è ancora Pasqua Quindi Ancora tutto normale Scusate Immagino Immagino anche a voi Ma a me Sfugge Il concetto di calendario In questo periodo Un po' strano Ok Allora Chiuderei Vi ringrazio a tutti Ci vediamo La settimana prossima Grazie Alla prossima Chiudiamo questo Il meeting Il meeting Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima